buongiorno sono m e oggi vi farò vedere come mettere i trucchi di gts andreas sul desktop prima di tutto dovrete andare su google e digitare il nome del dell'obiettivo interessato gts andreas trucchi per pc ovviamente si troverà gts andreas.com e quando sarete qui dovete sottolineare tutti i trucchi scusate che ho sbagliato ho sbagliato app ok qui ci saranno tutti i trucchi e quando avete trovato i trucchi sottolineerete tutto quanto tutto ovviamente dobbiamo sottolineare tutto scusate che ho sbagliato dovete sottolineare praticamente tutto perché se no non succederà niente scusate dicevo che ci saranno i trucchi voi dovrete sottolineare tutto anche tutto praticamente tranne le cose sotto poi premerete tasto destro copia poi potrete tranquillamente uscire dal cioè diciamo tra virgolette da google e andrete su blocco note poi premerete di nuovo tasto destro incolla in colla poi avrete messo sul foglio i trucchi di gts andreas per pc poi tasto poi andete poi di tutto dovrete ok allora dunque dicevo dovrete andare su file salva con nome scriviamo il nome scriviamo il nome del testo gta san andreas moesi mod trucchi per pc e avrete finito salva e voi l'avrete salvato sul desktop chiudete la pagina e tutto quanto c'è sarà qui dentro quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace anche al prossimo video iscrivetevi e vi ringrazio vi ringrazio e ciao 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 ciao